Oggi è completato definitivamente un ITER, peraltro che si è avuto un mese e mezzo in più e per rispetto anche delle minoranze perché abbiamo voluto portare nelle commissioni la discussione sulle richieste in più da 12 a 15 che abbiamo approvato. Il lavoro dal punto di vista della cogenza delle competenze richieste è concluso. Il lavoro non si è mai fermato anche nelle settimane scorse nel rapporto con i ministeri, col ministero e il governo. Noi siamo pronti ad andare a trattare perché adesso si tratta di andare a verificare quant'è il costo delle singole competenze ma questo vale per noi come per la Lombardia e per il Veneto per gestire ciò che non gestirà più lo Stato. Io davvero sono molto soddisfatto, è sostanzialmente un percorso che avrà una sua portata storica perché mai nessuno era riuscito in questo paese a ottenere autonomia differenziata e ripeto c'è ancora la prudenza di chi non ha ancora firmato materialmente ma io vedo che si sta instradando tutto per il meglio e lavoreremo per fare in modo che questa regione ottenga ciò che le spetta e ciò che merita.